Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. Quest'oggi non saremo qui a fare un unboxing, ma in realtà una recensione diretta. Infatti, per la verità, ho perso il video dell'unboxing, purtroppo per un problema alla telecamera, che si è cancellato magicamente il video e non è possibile recuperarlo. Però quest'oggi siamo qui per presentarvi questo Toshiba Store Wireless Adapter. È un sistema di conversione di un hard disk fisico a un hard disk di rete. Quindi, adesso vi faccio vedere quanto è piccolo questo dispositivo. Questo è il Toshiba Wireless Adapter. In pratica, è una sorta di mini-router, chiamiamolo così, che funziona attraverso il micro-USB di un normale telefono. E dall'altra parte abbiamo una USB 3.0, quindi possiamo collegarci hard disk o chiavette USB semplicissime, dove possiamo sia caricare che scaricare i dati. Adesso andremo a fare una recensione un po' completa di questo dispositivo e andremo a vedere anche com'è messo a livello gestionale. Poi ci saranno ovviamente altri appuntamenti dove andremo a vedere la configurazione e tutto. Ovviamente tutto questo subito dopo la sigla. Allora, il Toshiba Wireless Adapter, come è composto? Innanzitutto ci sono tre segnalazioni di luci. Sono tre lampade che permettono il vedere lo stato del nostro router. Quindi la prima lampada, che poi vabbè che si vede pochissimo, anzi contro luce forse si vede, è quella della USB. Cioè in pratica è un LED blu che avvisa la presenza della chiavetta USB. La seconda è il wireless, quindi attiva la rete ULAN, LAN più che altro, wireless LAN. E in pratica possiamo sia collegare il nostro router di casa, quindi collegandolo in maniera che se noi ci collegheremo al wifi di questa sorta di router, ci permetterà anche di navigare su internet mentre siamo dentro nella gestione hard disk. Quindi, a differenza dei normali sistemi che abbiamo già visto con quelli dell'inteso, che se ti colleghi al wireless di questo sistema, di solito hai solo accesso all'hard disk e non alla rete mondiale, in questo caso abbiamo anche l'accesso alla rete mondiale. Oltre a questo c'è anche un ultimo LED che è quello di stato, quindi ci va a mostrare lo stato del nostro sistema, quindi se è attivo, se è in standby o altro. La USB che vi stavo dicendo prima è questa qui. Come vedete è veramente molto semplice l'utilizzo, basta l'aggancio e poi l'alimentazione. E tutto viene in maniera automatica. Oltre a questo, prima di andare a concludere la recensione, vi devo avvisare di un'altra piccola cosa. La prima configurazione sarà attraverso il Wi-Fi di questo sistema, dove andremo a configurare ogni singola cosa, che sia dalla rete Wi-Fi alla rete di casa. Quindi andremo a vedere poi con calma, vi spiegherò come si presenta a livello del software per web version, cioè per PC. Mentre faremo un altro video ancora dove vi mostrerò attraverso lo smartphone. Ora spero che riuscirò anche a recuperare l'unboxing, anche se non credo, però mai dire di no. Comunque, per il resto da Computer Museo per ora è tutto, ci vediamo a un prossimo episodio dove andremo appunto a vedere il sistema gestionale. Grazie ancora al prossimo episodio.